SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE C'è celebrato un po' pochino, cioè non ci si confessa molto e sempre a quanto pare non sempre ci si confessa bene, cioè molte volte la confessione purtroppo diventa altro. Io vorrei questa sera introdurre questo sacramento e presentarlo appunto nel contesto di questo ciclo di catechesi, è il secondo sacramento che vediamo, abbiamo già visto il sacramento del battesimo, è il secondo sacramento cosiddetto, secondo la dizione classica, antica, il sacramento tra virgolette dei morti, cioè di coloro che sono morti alla grazia, perché mentre il sacramento del battesimo serve a rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo per recuperare la grazia perduta nei nostri progenitori a causa del peccato originale, il sacramento della penitenza è ordinato, queste sono parole testuali che si trovano nel catechismo della Chiesa Cattolica, alla remissione dei peccati gravi, per questo che la volta scorsa abbiamo dovuto fare quella digressione credo abbastanza importante e quella distinzione tra peccato mortale, grave e veniale, quindi familiarizzandosi con questi termini. Strettamente parlando infatti il sacramento della penitenza è ordinato alla remissione dei peccati mortali, cioè quando una persona, abbiamo visto la volta scorsa, ha commesso con piena avvertenza e deliberato consenso un peccato in materia grave, deve accostarsi alla Santa Confessione in via ordinaria per ottenere la remissione di questo peccato e fino a quando non l'ha fatto, questo l'abbiamo imparato credo al catechismo, non può accostarsi alla comunione sacramentale, questo era vero ieri, è vero oggi ed è vero sempre. Questa sera vedremo un pochino se Dio ci aiuta. Uno, il sacramento, secondo le sfumature che il sacramento può assumere, a seconda di come e perché lo si usi, e poi qualche piccola considerazione, diciamo così, un po' pastorale su questo sacramento, sia da parte di noi sacerdoti che da parte dei penitenti. Allora, vediamo subito, facciamo così, cosa questo sacramento non è, perché purtroppo c'è un modo, diciamo così, generico, di usare questo termine, dice me so confessato, cioè confessato potrebbe significare anche parlare di cose intime, parlare di cose personali e confidare un segreto. Allora, tenete sempre presente che questo ciclo di catechesi è stato voluto anche perché è matura all'interno di un contesto di maturazione, come dire, personale, sia umana, cristiana, sacerdotale, ma anche grazie all'esperienza acquisita nel corso degli anni. Allora, a volte si fraintende, nel senso che si scambia la confessione con un momento in cui, che è una cosa molto importante, si parla di cose intime, private, personali, quindi di problemi con un sacerdote. Quindi si scambia, diciamo così, la confessione, questo è un primo cosa la confessione non è, con un colloquio spirituale, attenzione, ripeto, importantissimo, perché se una persona c'è un problema, con chi ne parla? Quindi parlarne con un sacerdote è certamente una cosa buona. Fare questo non significa necessariamente fare una chiacchierata. Come dire, la chiacchierata nel nostro parlare comune, la chiacchierata è parlare su cose del più e del meno, o frivole o addirittura scadere, diciamo così, nel gossip, nel pettegolezzo. No, è capace che una persona ha dei problemi grossi, quindi ha dei macigni, ha delle cose da condividere e ha il bisogno di parlare con un sacerdote. E questa è una cosa non buona, di più. Il sacerdote è l'uomo dell'ascolto, quindi è un padre, quindi non è che è soltanto un amministratore di sacramenti, quindi ha un cuore da dare e da consegnare, quindi anche come deposito di pene, di sofferenze. Non sempre, anzi raramente, i sacerdoti hanno la soluzione dei problemi. Un buon sacerdote, se il problema è affrontabile, deve aiutare la persona ad affrontarlo, non fornirgli la soluzione. Però questa non è ancora una confessione, è un colloquio spirituale. Ed è bene, tra l'altro, che queste cose, questi colloqui spirituali, avvengano sempre fuori del contesto della confessione, perché poi vedremo alcune cose che riguardano il sigillo sacramentale, quindi se un sacerdote ascolta alcune, come dire, confidenze, cose che non sono materia di peccato dentro la confessione, come dire, deve salire il suo tasso di attenzione, perché è blindato dal sigillo sacramentale, non può e non deve, non soltanto parlare, ma neanche usare la scienza auto in confessione, e tra l'altro neanche volontariamente metterci a pensare sopra. Per cui se una persona mi confidasse un problema in confessione, ha detto, insomma, io sto a contatto con, o mi sono confrontato anche, insomma, con un pochino di canonisti, da un punto, è un problema, pensate anche ripensarci. Quindi questo già fa capire la serietà, proprio l'estrema cura con cui la Chiesa anche disciplina questo sacramento, anche per la tutela, soprattutto per la tutela della coscienza dei fedeli. Poi diremmo qualcosa, quindi non è un colloquio spirituale, non è nemmeno, come dire, una valvola di sfogo, ecco, un colloquio spirituale magari è un qualche cosa di, come dire, di profondo, dove si cerca un consiglio e qualcosa che serva ad affrontare un problema grosso, no? Un fedele oggi più che mai, perché oggi noi siamo soli, oggi siamo, come dire, viviamo in un contesto dove abbiamo il bisogno, a volte è semplicemente di sfogarci, di sfogarci. E anche qui, le spalle di un sacerdote, insomma, il cuore di un sacerdote, specialmente di un parroco, potrebbe essere un posto giusto, insomma, se uno ha fiducia. Certamente da parte del parroco ci deve essere questa disponibilità. Si è il benvenuto, però anche questo non è da farsi nel contesto sacramentale, quindi non quando il sacerdote sta con la stola, sta in confessionale, confessionale, o sta nel luogo dedicato alle confessioni, dico luogo dedicato alle confessioni, perché nel momento storico in cui accade questa catechesi, sto ripetendo tutte le catechesi, siamo ancora sotto l'emergenza pandemica, per cui dobbiamo utilizzare luoghi distinti, insomma, per la confessione, tutti quanti gli annessi e connessi che tutti conosciamo, no? Però è sempre bene che il sacerdote, lo vedremo, abbia la stola, per capire che quello è il momento delle confessioni. Quindi non un colloquio spirituale, non uno sfogo, nemmeno una seduta psicologica, per due motivi. Primo, perché il sacerdote non ha la competenza per fare lo psicologo, ognuno deve fare il lavoro suo, d'accordo? Certamente, nel ministero sacerdotale, a volte, qualche cosa si interseca, però a livello molto molto basso, cioè un sacerdote, a meno che non sia anche psicologo, però essere psicologo è cosa distinta dall'essere sacerdote, quindi non è escluso che possa attivare, diciamo così, dinamiche di questo genere, ma la confessione non è una seduta psicologica, quindi non è che serve a far tirare fuori alla persona le problematiche dei traumi, delle ferite, del male ricevuto, d'accordo? Che sono cose, anche queste, importantissime, lo vedremo nell'altro ciclo di Catechesi che abbiamo aperto venerdì scorso, no? Cioè tutto quanto questo argomento, insomma, che chiaramente entra in concomitanza, diciamo così, tocca alcune sfere relative alla dimensione psicologica della persona, ma questa non è una confessione. Il sacramento della confessione, o penitenza, o riconciliazione, ha tanti nomi a seconda, adesso lo vedremo, del tipo di punto di vista che si vuole prendere, ha ad oggetto, quando si parla di confessione, cosa si confessa? Si confessano i peccati di cui si è coscienti, i peccati che si sono commessi e di cui si è preso coscienza, d'accordo? Siano quelli, diciamo così, ordinariamente, come ordinariamente avviene, commessi dall'ultima confessione alla confessione che si sta facendo, oppure, in un caso peculiare, che forse affronteremo questa sera, vediamo il tempo che ci abbiamo, anche facendo riferimento a peccati, i pregressi, a certe condizioni e in certe, diciamo così, peculiari confessioni del tutto quanto particolari. Quindi, quando si parla di confessione, si accentua proprio l'accusa, d'accordo? La confessione, che cosa confesso? Sarebbe come quando, capite il senso, no? Come quando un colpevole, uno che ha commesso un reato, anziché farsi fare il processo, va e lo confessa, dice, l'ho fatto io, sto reato, mettetemi in galera, d'accordo? Detto proprio in parole, quindi, la confessione, è un esempio un po' così, no? Però per far capire, quindi, ad oggetto, una cosa, non bella, che io ho fatto, e che confesso, al ministro di Dio, attenzione, ma il ministro di Dio, rappresenta Gesù, quindi, l'atto non è tanto, l'andarla a confessare, al sacerdote, al sacerdote, guardate, ci si trova, il santo curato d'Ars, diceva sempre, ci sono due cose, che sarebbe meglio, con sacerdote, cioè, non facesse, nel senso che, tremi prima di farle, perché il Signore, chiederà grande conto, che è, fare il confessore, fare il parroco, perché sono, delle responsabilità, molto, molto grandi, si toccano, insomma, le corde, insomma, di, delle persone, si può fare tanto del bene, ma si rischi a volte di fare del male, una confessione purtroppo mal gestita, magari non volontariamente, a causa di tante circostanze, può causare degli effetti collaterali, purtroppo, non proprio entusiasmanti, anche questo purtroppo, fa parte delle nostre miserie umane, ma la confessione avviene a Gesù, a Gesù, dinanzi a cui, umilmente, ecco, per ricevere il suo perdono, quindi, ma, Gesù vuole, perché vuole che riconosciamo le nostre colpe? Perché se tu riconosci le tue colpe, quindi poi ne chiedi perdono, certamente attraverso il sacramento lo ricevi il perdono, l'umile riconoscimento delle tue colpe, unito poi alla dolore per esse, al proposito di non rifarle, questo è poi il pentimento, che cosa succede? succede che ti darà a te la possibilità, la forza che ti darà anche dalla grazia del sacramento, di combattere, perché se tu, l'abbiamo visto la volta scorsa, incorri in un peccato, ti fai male, anzitutto tu, d'accordo? Certamente il peccato, abbiamo imparato dal catechismo, questa è la dottrina tradizionale, tuttora valida, si dice che offende Dio, lo diciamo anche nell'atto di dolore, nel senso che c'è questa componente, come dire, bruttina, insomma, della creatura, che si erge, e come si lanciasse, quando è proprio peccato, peccato, come dire, una sfida, diciamo così, al Signore, come si ripetesse, in maniera piccola, quel gesto, diciamo così, di ribellione, quel non serviam, ecco, di cui, abbiamo sentito il profeta Esaia, insomma, attribuire a Lucifero, anche se per noi esseri umani è sempre molto meno, come dire, grave, diciamo così, la responsabilità, ne abbiamo già parlato di queste cose, no? Ma, oltre a questa dimensione, dentro la cosiddetta offesa di Dio, che cosa riempie, cioè, se io faccio del male a me stesso, io che sono una creatura dell'Altissimo, la mia anima l'ha creata Lui, la mia redenzione, dico mia per dire tua, cioè, chiunque ascolta, deve mettercisi dentro, costa tutto il sangue di Cristo, Dio ti ama, Dio mi ama, Dio vuole vederti felice, non vuole vederti distrutto, ma se tu purtroppo pecchi, questo è quello a cui vai incontro, tu, e fai danni a te, e fai danni intorno a te, quindi, entrare in questa forma di umiltà, riconoscere la colpa, confessarlo umilmente, chiedere perdono, e dire, e dire, dirsi e dire, al Signore, attraverso il suo ministro, guarda Signore mio, con il tuo aiuto, liberami da questa cosa, e voglio liberarmi da questa cosa, e questo è male per me, d'accordo, qui, in questo ciclo di catechesi, riprenderemo, oltre ai sacramenti, anche al discorso dei comandamenti, cercheremo di entrare nella comprensione, ecco, proprio della bruttezza, del peccato, il peccato è una cosa brutta, d'accordo, sarebbe meraviglioso, se ascoltando qualche bella catechesi, qualche bella predica, di chiunque, d'accordo, non fa niente che si tratti di queste, se il Signore vorrà usarle, gloria sempre a Lui, ma, ci venisse proprio, l'unica cosa giusta, che ci deve venire nei confronti del peccato, che è proprio l'avversione, proprio il disprezzo, cioè dire, io questa cosa non la commetterò mai, perché non voglio stare male, d'accordo, noi, il Signore è l'amante della vita, non è l'amante della morte, e noi dobbiamo diventare come Lui, amanti della vita, nella bellissima lettura, che si troverà proprio nell'ufficio delle letture di domani mattina, chi lo farà, chi sta seguendo la diretta, e lo farà, si vedrà che già nel libro del Deuteronomio, il Signore diceva, guarda, che io ti ho dato la mia legge, bella, da seguire, dopo che ti ho fatto uscire dall'Egitto, perché tu fossi felice, cioè, il cammino della vita, sono i dieci comandamenti, il cammino della vita, con la V maiuscola, cioè il cammino della felicità, se tu vai contro i comandamenti, come dire, ti dai la morte, capito, quelli che mi odiano amano la morte, si legge in un libro sapienziale, la sapienza attribuisce a se stesso questa frase, quelli che mi odiano amano la morte, chi di noi è così folle, insomma, da amare la morte, no? Quindi con questo ci siamo già introdotti, dentro questo sacramento, che è, ripeto, è una cosa bella, non è una cosa brutta, quindi è un incontro, con l'amore del Signore, che ti accoglie, ti abbraccia, ti toglie tutto quanto il male, che il peccato ha lasciato in te, ti concede la possibilità di una vita nuova, sacramento della riconciliazione, l'altro nome della confessione, perché? Perché ti riconcili, fai pace con Dio, ma fai pace anche con te stesso, fai pace con la Chiesa, fai pace con il prossimo, cioè uno degli effetti accidentali, certamente, ma belli della confessione, che se uno fa una bella confessione, si sente bene, si sente meglio, si sente libero, si sente liberato, ha tanti pesi, che li ha presi e li ha lasciati, è quello che se li ha presi tutti, è il nostro Signore che se li ha presi tutti quanti, i nostri pesi, solo che lui se li ha presi, ma questo suo averli presi diventa efficace per noi, solo se noi glieli andiamo a consegnare, e questo si fa attraverso questo sacramento. Quindi, la confessione, la riconciliazione, si chiama anche sacramento della penitenza, perché? Penitenza è parola, come dire, complessa, no? Numero uno, certamente il gesto di confessarsi, qui se mi posso permettere il richiamo a tanti interventi dell'attuale pontefice regnante, Papa Francesco, il sacramento della penitenza è una penitenza, quindi non è una cosa, umanamente parlando, divertente, non è un divertimento andare a raccontare le proprie malefatte a un ministro di Dio, no? Non lo è, se uno fa bene la confessione, certo se uno fa altro, allora, quante volte il Papa ci ha detto, dice, dobbiamo avere il coraggio di vergognarci, ma io non mi confesso perché mi vergogno, figlio mio, vinci questa vergogna, questa è una vergogna salutare, d'accordo? I santi dicevano anche, capisco che ti vergogni, insomma, no? però pensa anche un'altra cosa, no? Cioè, di che cosa in teoria bisognerebbe vergognarsi di più? di aver commesso il peccato sotto gli occhi di Dio, cioè lui ti ha visto, non è che dormiva, e secondo il nostro modo di pensare, noi dobbiamo credere questa cosa, gli hai dato un dolore al Signore, non è contento di quello che ha visto, ma non è non essere contento, non è contento per te, quindi, è come se gli avessi dato un colpo al cuore, no? E che cosa è che dovrebbe farci vergognare di più? Dovrebbe farci stare male per noi, no? Quindi penitenza, ventimento, il dolore per il peccato, il Signore della Chiesa, no? Che cosa? La vergogna di andarla a dire a un uomo, perché certamente, noi ci abbiamo davanti, certo un ministro di Cristo, dietro il sacerdote c'è Cristo, altrimenti non andiamo a confessarci, se non ci possiamo credere, insomma, ecco, però, è un uomo, ma non dovremmo piuttosto vergognarci un po' di più, come dice il Salmo 50, contro te solo, contro te solo, peccato, quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto, l'ho fatto davanti a te, purtroppo. Allora, se uno si anima con queste sante motivazioni, vince anche quella vergogna umana dell'affrontare, appunto, come dire, la mediazione umana del ministro di Cristo. a cui, comunque, noi dobbiamo raccontarli i nostri peccati e dobbiamo raccontarli, vedremo anche questo, dobbiamo raccontarli bene. Anche qui, si possono fare, si può risalire al concilio di Trento, insomma, che dà proprio dei dettagli specifici, o anche qui, ricordo, io ricordo di averlo ascoltato, un po' di catechesi del Papa, sul sacramento della penitenza, si può anche dire lo stesso concetto, dicendo, figlioli miei, i peccati vanno chiamati per nome e per cognome, quindi non si deve girare troppo intorno, d'accordo? Nome e cognome. Ti togli, come dire, ti togli il pensiero. Ho fatto questo, 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 questo e questo. Oh! Una confessione fatta bene, sapete quanto, cioè, dovrebbe durare poco, non dovrebbe durare tantissimo tempo, se uno, ci siamo già detti qualcosa, non restasse in questi parametri, perché se uno, non, non fa digressioni, non chiacchiera, non si racconta, perché non serve raccontare tutta quanta, la vita, no? I peccati che uno ha commesso, di cui è cosciente, su quello però, sinceramente. Ora, abbiamo visto già la volta scorsa, quindi non, non mi dilungo troppo, la confessione va preparata, attenzione, quindi, come tutti quanti i sacramenti, i sacramenti hanno bisogno di, come dire, di tre momenti, il prima, il durante e il dopo, d'accordo? Anche il battesimo, per la verità, cioè, il prima non è del bambino, ma sapete che, tradizionalmente, si fa uno o qualche incontro in preparazione al battesimo, poi si celebra il battesimo, e dopo il battesimo, questo, grazie a Dio, la nostra dioce, si sta cominciando un bel percorso, non bisognerebbe, come dire, fare, come dire, black out, fino al catechismo della prima comunione, no, ma già dopo il battesimo, mano a mano che il bambino cresce, si comincia, a vivere il post battesimo, con l'educazione cristiana, che i genitori danno, al fanciullo, no? Ora, il sacramento della penitenza, c'ha un prima, un durante, un dopo, molto ben, strutturati, perché il prima è l'esame di coscienza, dove già comincia a nascere quello che è l'elemento fondamentale della confessione, che è il dolore dei peccati, nelle due forme, perfetta della contrizione, imperfetta dell'attrizione, che poi vedremo. Il durante è la confessione integra dei peccati, quelli che tu ti ricordi dopo l'esame di coscienza, in sincerità di cuore dinanzi al Signore, quindi senza celare nulla volontariamente, o appunto per paura o per vergogna, e il dopo la confessione, perché dopo la confessione c'è la cosiddetta penitenza, diciamo, nell'accezione comune, o soddisfazione sacramentale, nella edizione tecnica, diciamo così teologica, che segue la confessione, quindi capiamo come ci sono questi momenti, che per questo sacramento sono proprio, come dire, diciamo quasi istituzionalizzati, quindi che vanno ben celebrati. Partiamo dall'esame di coscienza, l'esame di coscienza può esigere, può richiedere, l'ausilio di un piccolo schema, generalmente nelle parrocchie, io ne ho visti diversi, ci sono, dove i sacerdoti in cura d'anime, per aiutare certamente i fedeli, come dire, forniscono uno schema, appunto, che sulla base dei dieci comandamenti, solleciti, diciamo così, il penitente, a entrare in se stessi, a vedere, l'ho fatto questo, l'ho fatto questo, è chiaro che, tornando al discorso, della puntata precedente, può succedere che, magari uno si confronta con un esame di coscienza, e si accorge, mamma mia, ho fatto sta cosa qui, quindi, già che dice così, sempre calma, d'accordo, quindi può darsi che, quando l'hai fatto, manco ti rendevi conto, della gravità della situazione, poi certamente il dialogo, in sede sacramentale, con il sacerdote, il sacerdote delicatamente, aiuterà un fedele a dire, sta attento che questa, è una cosa un pochino più grave, quindi cerca di farci attenzione, magari questa, è un po' meno, quindi aiutando anche, il penitente, perché la coscienza, è una cosa che è in continua formazione, anche questo, l'abbiamo visto, nella puntata precedente, e in due puntate fa, è importantissimo, formare la coscienza, imparare a raffinarla, e a riempirla, di buoni contenuti, ecco che, purtroppo non sono quelli, che ci vengono dal, sentire civile, civile, e civile nel senso, culturale, dell'ambiente in cui viviamo oggi, perché l'ambiente in cui viviamo oggi, purtroppo, spesso e volentieri, è fuorviante, nel senso che non ci, non ci dà, diciamo così, criteri per discernere la volontà di Dio, purtroppo, perché sappiamo tutti quanti, che ci troviamo in un contesto, di una società, che è ampiamente post cristiana, e quindi, questo è un punto, dove, dobbiamo lavorare, ecco, la cosa importante, è non presentarsi, alla confessione, così, vedo il confessore, e mi vado a confessare, anche qui, a volte può anche succedere, non mettiamo limiti alla divina provvidenza, specialmente una persona, che è tanto tempo, che non si accosta alla confessione, può succedere, che entra in una chiesa, vedo un confessionale acceso, dice, ma vado, allora, è bene che vada, d'accordo, perché, quello può essere un primo momento, no, certamente poi, il confessore, si accorgerà, chi c'ha davanti, se è una persona, che non si confessa da vent'anni, capisci, che fa una confessione, un pochino striminzita, il sacerdote, certamente, con tutta quanta la bontà, la carità, la delicatezza, farà comprendere, a questa persona, dice, bravo figlio mio, quindi, signore d'ha chiamato, è cominciato a fare un passo, però, ecco, adesso, piano piano, comincia a camminare, magari, prenditi qualche schema, di esame di coscienza, poi, tra un po', quando sarai, maggiormente pronto, la completi, sta confessione, adesso, insomma, non è il caso, per tante situazioni, quindi, però, ordinariamente, quindi, ci possono stare le eccezioni, ma, ordinariamente, prima della confessione, è bene prepararsi, d'accordo, con un esame di coscienza, che se uno è in grado di farlo, cioè, non è necessariamente, da utilizzare uno schema, no, ecco, domande pastorali, qualcuno dice, li posso scrivere, allora, non c'è niente di, proibito, da un punto di vista, della legge della chiesa, no, San Giovanni Bosco, si racconta, insomma, che tutti quanti i suoi ragazzi, andavano col foglietto scritto, e poi lui glielo faceva strappare, questo si può fare, dipende, anche qui, poi il confessore, dovrà fare un discernimento, dalle condizioni soggettive, del penitente, perché se questa cosa si fa, semplicemente perché una persona, fa questa cosa, diciamo, si capisce, no, quindi con serenità, con tranquillità, con moderazione, non è che c'ha l'ansia, che deve per forza dire, fino ai minimi dettagli, perché sennò forse non è perdonato, questo non, cioè, magari, voglio comunque, avere un supporto, perché magari, fa la confessione, non vorrei, insomma, dimenticare qualche cosa, comunque vorrei portare alcune cose, nel sacramento, vabbè, si può anche fare, se te le ricordi a mente, va bene lo stesso, insomma, no, quindi, a seconda delle circostanze, si può fare, purché, questo non sia, come dire, un alimentare, magari una coscienza scrupolosa, vi assicuro che può succedere, che, che, che gli prende, insomma, l'ansia, che deve dire, fino ai minimi dettagli, a volte dettagli, come dire, inopportuni, che servono soltanto, come dire, a creare sofferenza all'anima, oppure, che non sia fatto, diciamo, con uno spirito, perché poi, la nostra volontà umana, si si mette dentro queste cose, quindi, anche una cosa di per sé buona, l'abbiamo già visto altre volte, la può far diventare, meno buona, quindi, che non diventi un modo, come dire, per torturare la coscienza, per raschiarsi, oppure, perché uno dice, no, se non dicono i minimi dettagli, perfino, come dire, che ho, che ho fatto, mezzo pensiero di impazienza, dinanzi a questa, perché dopo Dio non mi perdona, quindi, si capisce, quando ci sono, delle modalità, che sono, come dire, non consone, non equilibrate, non opportune, ecco, quindi, prepararsi bene, sì, ecco, esagerare, anche in questo, no, la confessione, l'abbiamo già visto, l'accusa dei peccati, ma più importante dell'accusa dei peccati, che deve essere comunque integra, quindi, ripeto, i peccati vanno chiamati per nome, per cognome, e non si devono nascondere, peccati gravi, e, volutamente, quando si ricorda il numero dei peccati, questo è tuttora valido, se si ricorda il numero, bisogna dirlo, se non si ricorda, bisogna dare l'ordine di grandezza, anche qui, cioè, che non, che non, non mi venga, insomma, il rimorso di coscienza, di andare a dire, questa è una cosa, che si deve fare ordinariamente, però anche qui, non deve venire l'ansia del numero, d'accordo, ripeto, se uno si ricorda, cioè, se uno ha fatto una confessione, faccio un esempio, se mi sono confessato un mese fa, e so, che, in un paio di circostanze, mi è scappata la bestemmia, alla confessione dirò, ho bestemmiato, credo un paio di volte, è chiaro, che se io, sono stato 40 anni, senza confessarmi, e purtroppo, c'è la cattiva abitudine di confessare, è impossibile, che c'è, che gli dico, che gli dico, 1477, cioè, non è che giriamo con il conta peccati, in tasca, non ci abbiamo come, come, come il contapassi, dei nostri smartphone, quindi, è impossibile, in certe circostanze, d'accordo, quando è possibile, certamente, viene chiesto, dalla disciplina della Chiesa, questo gesto, di ulteriore, umiltà, ecco, chiesto, dalla struttura, del sacramento, ecco, ora, anche questo, si viva, serenamente, quindi, quando c'è, si dice, quando non c'è, non si dice, quindi, la confessione, dei peccati per specie, quindi, chiamandoli per nome, per numero, per circostanze, delle volte, anche qui, bisogna crescere, cioè, se uno impara ad ascoltare la coscienza, anche se non ha tutta questa grande formazione, è chiaro che, se tu senti, che una cosa la dovresti specificare, fallo, ecco, perché potrebbe essere utile, poi sarà eventualmente, il sacerdote, non occorre, insomma, aggiungere questa cosa, oppure, è fatto bene a dirlo, perché, questa, effettivamente, è una cosa che, come dire, potrebbe aggravare la situazione del peccato, potrebbe addirittura, cambiare la specie, quindi, va curata, anche questa cosa, certamente, in sede di, di confessione, ecco, poi, si riceve dal sacerdote, la soddisfazione sacramentale, la soddisfazione sacramentale, o penitenza, ci ricorda, che, la colpa, viene rimessa, integralmente, per virtù, del sangue di Cristo, anzi, ricordiamo sempre, che nel sacramento, della confessione, i nostri peccati, vengono distrutti, d'accordo, vengono cancellati, vengono sepolti, proprio, rimangono le conseguenze, i residui, le scorie del peccato, le cose che dobbiamo, da cui dobbiamo liberarci, da cui dobbiamo purificarci, i danni prodotti da riparare, in noi o intorno a noi, ecco, e quelli, sono ciò che, la Chiesa, ci ricorda, consegnandoci, un gesto penitenziale, un gesto penitenziale, che, secondo il catechismo, secondo la dottrina tradizionale, deve essere proporzionato, al numero, e alla gravità, dei peccati, commessi, tenuto però a conto, anche qui, questo è un punto fondamentale, delle circostanze soggettive, del penitente, e anche del contesto, storico, in cui ci muoviamo, cioè, ci sono stati, periodi storici, insomma, dove c'era una certa disciplina, oggi la disciplina, è completamente differente, quindi, tutte queste cose, vanno ponderate, vanno tenute in debita considerazione, soprattutto dal confessore, ecco, tenendo presente che, certamente la penitenza sacramentale, ha un carattere, prevalentemente, almeno nell'attuale disciplina, simbolico, e poi, anche qui, se il penitente, se il fedele, ascolterà bene il Signore e i richiami del cuore, sarà il Signore stesso a prenderlo per mano e a introdurlo, piano piano, sulla via della penitenza come virtù, la penitenza non è soltanto un sacramento, ma anche una virtù, e quindi gli insegnerà, nelle piccole, come nelle grandi cose, a fare qualche gesto di penitenza, di mortificazione, che gli servirà a purificarsi sempre di più, già in questa vita, delle conseguenze negative, delle tracce negative lasciate dal peccato, in modo tale che, punto primo, si campa meglio qui, e punto secondo, saranno abbreviati, o speriamo, addirittura, annullati del tutto, quasi del tutto, i tempi di purificazioni future, dopo la morte, perché, se non ci purifichiamo bene di qua, ci purificheremo bene di là, ecco, questo, dobbiamo comunque sempre tenerlo presente. Ora, per concludere sul sacramento della penitenza in sé, veniamo al punto più importante, che è il pentimento. La cosa più importante della confessione, la più importante di tutti, è il pentimento. La Chiesa insegna che quando il pentimento assume la forma perfetta, cioè la contrizione, si badi a fare uso attento di questo principio, appena nasce la contrizione, Dio ha già perdonato i peccati, fermo restando, che rimane l'obbligo di confessarli comunque. Perché la contrizione perfetta è quel dolore grande, questo, chi l'ha vissuta capisce di cosa si parla, ma è un dolore grandissimo, un dolore che al tempo stesso è grandissimo, ma è soave, è dolce, quindi non è intriso di angoscia o di disperazione, bisogna viverlo, è un dolore divino, diciamo così, quella cosa proprio è il dolore del figlio del prodigo, accorto, quindi dice, ma che ho fatto? Dice, ma che cosa ho combinato? Si sentì trafiggere il cuore, si dicono, si legge negli atti degli apostoli quando San Pietro per la prima volta non c'è il Kerigman, dice, quel figlio di Dio che voi avete ucciso, Dio era risuscitato dai morti, cioè sentire queste parole, si sentirono trafiggere il cuore, quell'esperienza del Salmo 50, contro di te, contro te solo ho peccato, mamma mia, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto, quanto mi dispiace, anche fino alle lacrime, ma lacrime belle, che ti dispiace, dice, non perché, adesso che succederà, me ne vado all'inferno, mi sono rovinato la vita, no, no, perché ho offeso l'amore, perché ho dispiaciuto l'amore, perché sono stato, e questo è vero, a causa di quello che ho commesso, la causa della morte del figlio di Dio, questo dobbiamo, questa è una cosa dolorosa, ma è una cosa bella, io auguro a tutti quanti, coloro che ascolteranno questa catechesi, di vivere questa esperienza, la compunzione, la contrizione, quindi il dolore del peccato mosso dalla carità, dall'amore di Dio, mi dispiace di averti dispiaciuto, perché tu sei l'amore, tu questo non te lo meritavi, tu sei, cioè, a causa di questo è stata resa necessaria la passione alla morte di Gesù, come vorrei che non fosse mai accaduto, però questo, ripeto, senza veli di disperazione, il dolore santo non è il dolore del disperato, perché il dolore del disperato è lo stesso un dolore molto molto acuto, ma è il dolore del disperato, come se non ci fosse speranza, ecco, quando c'è questo potremmo quasi essere sicuri, non dobbiamo, insomma, perché nessuno può essere sicuro di questo qui, ma che il Signore ci ha perdonato, anche perché non ci viene una cosa di questo genere se non c'è un intervento diretto di Dio, perché la contrizione è mossa dalla carità, certamente accolta dal cuore del fedele. Il pentimento imperfetto, che nella tradizione si chiama attrizione, invece è quello non mosso dalla carità, ma da altre motivazioni, le conseguenze del peccato, il timore della dannazione, quindi di andare a finire purtroppo nel luogo della perdizione, e cose del genere, quindi non l'amore di Dio. Ora, questa cosa è certamente insegnare a Chiesa uno step molto meno imperfetto, perché in questa forma di pentimento capite che entra in ballo il timore, la paura, la paura delle conseguenze, la paura dell'inferno. Come scrive San Giovanni, l'amore perfetto scaccia il timore, chi teme non è perfetto nell'amore, quindi non è l'ideale. Bisogna fare però attenzione di dire nel contempo che non è l'ideale, però che non è nemmeno da disprezzare, perché chi ancora non è arrivato all'ideale, se attraverso un po' di sana paura viene distolto dal male che comunque produce il peccato, meglio che niente. E la Chiesa ha difeso storicamente il valore dell'attrizione e la sufficienza dell'attrizione come condizione che integra il presupposto più importante del sacramento che è il pentimento. D'accordo? Quindi non va certamente assolutizzata e certamente dobbiamo sperare che la catrizione si superi nella contrizione. Noi dobbiamo vivere in grazia, dovremmo vivere in grazia e stare in amicizia con Dio perché lo amiamo, non perché lo temiamo. Ma specialmente nelle prime fasi, diciamo così, specialmente quando si viene da una situazione di grandi disordini, come dire, dove non si ha ancora una coscienza delicata e raffinata che guardando un crocifisso diceva ma signora mia ti ho ridotto io così quanto mi dispiace. Fino a quando non si arriva a questo, ecco, quest'altro elemento, solo che mentre vedete il primo elemento dice la Chiesa, se tu avverti la contrizione il perdono ti arriva subito, devi poi comunque andarti a confessare, ma quella confessione è quasi una formalità, attenzione, formalità necessaria però eh, nessuno dica ha avuto la contrizione perfetta non mi va da confessare perché io non ho detto questo e non lo dico, quindi perché non si dice questo, invece quando hai il pentimento imperfetto, il perdono avviene in sede di confessione, capite, quindi unitamente al fatto, questo è un piccolo un piccolo dettaglio che comunque è la disciplina della Chiesa e l'insegnamento della Chiesa specifica. Ok, quindi spero di essere stato chiaro sul sacramento in se stesso, adesso vediamo le forme di celebrazione e anche e soprattutto i tempi, no? Allora, cominciamo dalla legge della Chiesa, perché la legge della Chiesa è sempre il primo step, allora, la Chiesa nei suoi precetti generali che sono ancora ribaditi nella sostanza dal diritto canonico tuttora vigente fa obbligo ai fedeli di confessare tutti i peccati gravi, attenzione, di cui si è coscienti almeno una volta l'anno. Generalmente questa cosa la si fa in concomitanza con il periodo di Pasqua, perché a Pasqua, altra legge della Chiesa ancora vigente, vige per il fedele il precetto pasquale, quindi l'obbligo di fare la comunione, anche qui parleremo quando parleremo dell'eucaristia e faremo un pochino di distinguo, quindi questo è uno dei casi in cui la confessione diciamo così è necessaria e non bisogna rimanere proprio per chi proposta proprio più di un anno senza confessarsi. Quando la Chiesa interviene con una legge appunto canonica lo fa da madre per dare una mano ai suoi figli perché i figli possono essere come dire trascurati su questo punto cioè tua madre ti sta dicendo guarda figlio mio se scendi al di sotto di questo livello che non è l'ideale questo è proprio il minimo minimo stai cominciando a mettere al repentaglio la possibilità della salvezza della tua anima quindi non lo fare ok cioè vuol dire che non è l'ideale confessarsi una volta all'anno ma è il minimo indispensabile non è l'ideale comunicarsi solo a Pasqua ma è il minimo indispensabile d'accordo vedremo anche quando si parla della comunione quindi il progetto pasquale è chiesto dalla religione della Chiesa poi confessarsi anche questa è una cosa che oggi non sempre mi sembra chiaro nella coscienza dei fedeli all'approssimarsi quando si è in condizione di farlo di sorella morte i sacramenti questo poi lo vedremo chissà quando quando arriveremo a parlare dell'unzione degli infermi sia nell'unzione degli infermi sia nel viatico ordinariamente il sacramento andrebbe cominciato ascoltando la confessione del malato dell'anziano o del moribondo perché insomma è da farsi ovviamente ricorrendone le condizioni le possibilità adesso mi raccomando non cominciamo con i panici d'accordo te o le persone che dicevano mio padre è morto improvvisamente oppure a un certo punto ha perso coscienza quindi non è potuto confessare sta all'inferno non cominciamo a ingenerare insomma ecco quindi fenomeni di questo genere che sono completamente fuori luogo teniamo sempre presente che quando si parla di queste cose si parla dell'ordinarietà così come il sacramento della penitenza è il modo ordinario con cui vengono rimesse le colpe commesse dopo il battesimo ma quando questo non fosse possibile per tante circostanze non dipendenti dalla cattiva volontà dei fedeli è chiaro che Dio che usa e si devono usare ordinatamente i sacramenti noi non possiamo dire io ne faccio a meno noi non possiamo dirlo Dio se vuole può prescinderne ricorrendo nelle circostanze specialmente quelle che rendono a noi esseri umani impossibile la celebrazione di un sacramento spero di essere stato chiaro anche su questo no? quindi una volta all'anno in punto di morte e la terza condizione il terzo caso in cui la confessione è diciamo così obbligatoria mi si passa insomma questo termine è quando vuoi accostarti alla comunione essendo cosciente di aver commesso un peccato grave ecco qui se mi posso permettere da parroco devo fare necessariamente una cosa nel catechismo della chiesa cattolica si legge questo non è sempre molto presente nella coscienza dei fedeli che se si manca alla celebrazione della santa messa domenicale senza una grave necessità quindi deve essere successa una cosa grave si commette un peccato grave ora non sempre mi sembra anche dall'esperienza che la mancanza della messa domenicale sia percepita dalle coscienze dei fedeli come un peccato grave quindi può capitare che una persona non va messa la domenica e poi torna a messa e tranquillamente si comunica come se niente fosse questo non bisogna farlo d'accordo quindi attenzione basta che siamo coscienti di un peccato grave questo è uno di quelli più frequentemente commesso bisogna fare attenzione cioè a non accostarci adesso poi vedremo nel corso dieci comandamenti tutti quanti i peccati oggettivamente gravi quindi finito questa lunga serie di catechesi insomma ci sarà anche la possibilità di elaborarsi un proprio personale esame di coscienza però quando si è coscienti di un peccato grave non bisogna accostarsi alla santa comunione prima di essersi confessati e non dire mi confesso dopo questi sono i tre casi ripeto una volta all'anno in punto di morte e prima di accostarsi alla santa comunione qualora si sia come dire si sia consapevo deve stare in peccato fuori di questi casi c'è la cosiddetta confessione di devozione o confessione frequente la confessione di devozione così si chiamava tradizionalmente insomma io non vedo perché non chiamarla in questo modo e qual è è quella che si fa fuori dei casi in cui è strettamente necessario cioè non sarebbe strettamente necessario ma siccome la disciplina della chiesa raccomanda la confessione dei peccati anche veniali o anche delle imperfezioni di cui uno si sente un'imperfezione non è un peccato apro una piccola parentesi la differenza che c'è tra peccato e imperfezione no quindi il peccato è una trasgressione positiva ad una legge di Dio quindi un fare una cosa che è proibita o un non fare una cosa che è dovuta invece l'imperfezione è un fare male una cosa che è dovuta o non fare male una cosa che è dovuta cioè una virtù esercitata in maniera imperfetta per esempio faccio una bella cosa con l'intenzione segreta diciamo di essere di compiacere una creatura di farmi vedere da un uomo questa è un'imperfezione d'accordo faccio un'elemosina ma la faccio con malgarbo questa è un'imperfezione esempi proprio terra terra no mi viene chiesto di fare un piccolo servizio per favore mettiamo la sparecchia va bene ecco ho sparecchiato insomma ho brontolato di queste cose noi siamo pieni d'accordo e a volte le cose piccole è come in un matrimonio no cioè tante cose piccole danno fastidio perché immaginate una persona che per esempio è sempre sgarbata d'accordo è sgarbata non è che sgarbata cioè non ti fa mai in sorriso non ti esprime mai in maniera gentile com'è la vicinanza con una persona del genere gradevole non tanto ma questa fa tutti i peccati veniali o tutte le imperfezioni magari non fa niente di grave però quanto è brutto vivere vicino a una persona così quindi per carità un peccato mortale è un mostro d'accordo quindi un peccato veniale è un mostriciattolo un'imperfezione è una bruttura però ecco allora da tanti secoli ecco la chiesa ha raccomandato la chiesa a volte come dire obbliga a volte dice è caldamente raccomandato è cosa lodevole eccetera eccetera quindi questa dimensione c'è sempre c'è nella vita cristiana perché ci sono delle cose che sono come dire da farsi altre che non sarebbero obbligatorie ma se come e quando la tua coscienza ti ispirerà di farlo un pochino di più è meglio per te allora la confessione frequente è un ottimo strumento di crescita continua oltre che di acquisizione di grazie perché il sacramento della penitenza come tutti i sacramenti comunica la grazia e più lo ricevi è meglio lo ricevi è meglio è più è più per te capito ecco quindi questa è una cosa notevole ecco ogni quanto ogni quanto desideri sapete che ci sono varie indicazioni una confessione mensile è già un'ottima cosa fermo restando che stiamo parlando di persone che stanno lontane dal peccato grave quindi perché se si incorrano nel peccato grave torniamo immediatamente all'ambito di prima quindi confessione prima della comunione lontano dal peccato grave la confessione mensile va bene le persone che intendono fare un cammino spirituale impegnativo regola d'oro consegnata dalla tradizione della chiesa insomma da tanti santi la confessione è anche settimanale alcuni grandi santi tipo un san francesco se non ricordo male si confessavano quotidianamente ecco però insomma prima di giungere a questi estremi ordinariamente anche qui esperienza cioè queste sono cose assolutamente rarissime d'accordo perché generalmente quando si arriva a questi punti estremi non c'è una come dire una un genuino percorso di santificazione ci sono dei problemi generalmente di scrupolo o peggio ecco di non perfetto come dire si perdono il termine equilibrio interiore quindi non vanno generalmente assecondati poi certamente qui spetta ai sacerdoti insomma ai pastori di fare gli opportuni discernimenti e quindi di aiutare anche insomma i fedeli a a a starci bene quindi abbiamo visto la confessione di devozione e poi c'è il capitolo confessione generale la confessione generale è uno dei gesti ascetici più santificati più importanti che è un grande dono da parte del cielo anzitutto è una grande grazia generalmente è un gesto che precede come dire scelte di vita importanti faccio un po' di esempi i sacerdoti adesso io purtroppo non sono un canonista non ho qui vicino a me il mio amico che mi può dare insomma i consigli ma sacerdoti religiosi non so se sia prescritta ma quantomeno è caldamente raccomandata la confessione generale prima dell'ordinazione o prima della professione perpetua e per esempio quando si fanno le consagrazioni impegnative io ricordo che conobi per la prima volta questo lo posso dire è un'esperienza diciamo di vita tranquillamente comunicabile conobi per la prima volta la confessione generale quando lessi la filotea di San Francesco di Salle che la filotea di San Francesco di Salle sapete che era il manuale per la santificazione dei laici del 1600 e lui diceva guarda arriva un momento in cui tu ti decidi di metterti al servizio del Signore sul serio allora fai precedere questo momento da una buona confessione generale che tu la prepari all'inizio di questa filotea ci sono tutte queste meditazioni del 1600 quindi sul peccato sulla morte sull'inferno per arrivare a quindi qual è il senso cioè una persona che fa una opzione diciamo dice d'oggi in poi vorrei cominciare a percorrere un cammino di autentica santificazione cioè vorrei seguire il Signore questo non serve diventare frati monaci o cose di questo genere quindi pur rimanendo nel mondo desidero percorrere un cammino di santificazione cristiana e quindi cosa faccio mi faccio mi prendo un pochino di tempo mi riguardo la vita tutte quante le volte in cui ho detto dei grandi no al Signore anche non essendone consapevoli ricordiamo la volta precedente quindi magari cominciando ad avvicinarmi un po' al Signore questa è una cosa che succede più ci si avvicina alla luce più si prende coscienza della cattiveria di tante cose che prima uno non lo sapeva cioè io oggi sono consapevole della come dire negatività di alcune azioni ma a 18 anni non era una cosa assolutamente consapevole no quindi stando vicino al Signore la nostra coscienza si raffina quindi un giorno vedrai capirai che quella certa cosa è peccato magari anche peccato grave e ti viene a dire mamma mia quante volte l'ho fatta questa cosa qua in vita mia calma risentiamoci la catechesi la settimana scorsa capito va bene cioè non è che va bene che uno l'ha fatto quindi prendiamo atto lo diremo ma lo diremo sempre con questa postilla cioè io ho preso coscienza di questa cosa l'altro ieri certo che l'ho fatta ma quando l'ho fatta non avevo la coscienza che avevo oggi certo se la facessi oggi sarebbe un'altra cosa no allora la confessione generale è una cosa meravigliosa perché che succede tutte quante le nostre malefatte diciamo così sono come dei buchi neri che noi abbiamo dentro oppure se preferiamo insomma paragoni un pochino intraprendenti come delle piccole tane dei serpenti avete visto le tane delle vipere si mettono dentro i buchi no tu ti sembra che non ci sia niente ma se metti la mano dentro il buco ti mozzica la vipera insomma bene non ti fa no ecco così sono allora che succede per stare bene quindi per il nostro benessere siccome il nostro signore è l'istruttore dei serpenti e dei vereni bisogna portarglieli quindi con la confessione generale noi gli portiamo tutte quante le nostre come dire fabbrichette di peccato quindi tutti quanti i nostri serpentelli tutti quanti i nostri buchi neri perché quelli che ci ricordiamo ovviamente perché lì distrugge tutti d'accordo facendo anche un pochino i conti con la nostra vita passata d'accordo ora si prenda bene questa cosa quando noi quando noi prendiamo coscienza di una cosa grave che a partire dal nostro pensato che non abbiamo commesso allora si danno due possibilità io ne prendo coscienza ma quando l'ho commessa comunque un po' che fosse una cosa da non fare me ne rendevo conto allora bisogna confessarla e presto se invece è una presa di coscienza di una cosa che dice ma allora non mi proprio rendevo conto è preferibile confessarla ma non è assolutamente indispensabile perché allora d'accordo quindi mi raccomando dico queste cose in questi termini perché ho imparato dall'esperienza l'equilibrio che si deve avere su questa materia cioè non si può certamente assistere a una trasandatezza dove a volte sembra che un pochettino si gara con questo sagramento che quasi se ne è svuotato completamente l'importanza non si può però neanche estremizzare o esagerare alcuni aspetti perché si toccano dei tasti diciamo così della coscienza e dell'interiorità che specialmente quando si ha un contesto umano psicologico fragile può diventare un problema questo è sempre il solito problema che la volontà umana pure le cose buone pure le cose belle le strumentalizza per il male anche perché non è purtroppo che il nostro nemico sta a guardare quindi quando ci viene qualche sollecitazione positiva dalla grazia lui ci sputa subito il veleno perché quella cosa buona con un uso non corretto che ne facciamo o disordinato va a finire quasi quasi poi ci vada a far più male che bene ecco questo dobbiamo cercare di fare in modo che non accada bene mi sembra che più o meno ci dovremmo essere detti nella sostanza ecco tutte quante le cose importanti di questo sacramento io vi auguro di celebrare bene questo sacramento senza nessuna paura come un incontro gioioso con colui che infinitamente ci ama ha distrutto i nostri peccati desidera più di noi liberarci da tutte quante le nostre catene e farci ricominciare a vivere i padri della chiesa chiamavano questo sacramento il sacramento della conversione cioè quello che segna il passaggio da un prima a un poi quindi seppellisco il peccato così come Cristo è stato ucciso e morto a causa dei nostri peccati e risorgono una vita in cui il peccato me lo completamente dimentico buona confessione a tutti buona celebrazione di questo sacramento a tutti e che tutti possiamo riempirci di grazia e di amore attraverso questo magnifico canale che è questo sacramento mia benedizione a tutti ci vediamo se ti vuole la prossima settimana Dio vi benedica Ave Maria